Bene amici, ultimissima, IMSS sta finalmente iniziando proprio in questi istanti ad aggiornare, sì, il dettaglio pensionistico di marzo 2023. Possiamo dunque già ora verificare assieme i nuovi importi, le perequazioni, gli arretrati senza dover attendere la pubblicazione del cedolino. Infatti adesso vi mostro passo passo come verificare il dettaglio, seguitemi con attenzione, ci sono sia buone che cattive notizie. Prima mi raccomando, like, iscrizione, campanone, io sono Mr. Lul, sigla! Dunque come verifichiamo in anticipo gli importi che IMSS sta aggiornando e che saranno inseriti nel cedolino prossimo di marzo? Beh, dobbiamo andare sul sito dell'IMS, accediamo, cerchiamo fascicolo previdenziale del cittadino, prestazioni, pensioni, lista pensioni e dettaglio. E qui appunto troveremo il dettaglio 3-2023. In basso a destra, in questa schermata, trovate proprio l'importo totalone che sarà inserito da IMSS nel prossimo cedolino, cedolino che vedremo pubblicato intorno sempre a 21, 20-21 insomma. Una pensione molto attesa perché sapete che IMSS dovrà andare a inserire la perequazione castrata per chi abbia trattamenti oltre 4 volte il minimo, quindi parliamo di pensioni sopra 2.101 euro, con arretrati anche relativi a gennaio e febbraio 2023. Anche i pensionati al minimo però devono andare subito a verificare il loro dettaglio per capire se finalmente IMSS abbia erogato il doppio bonus di rivalutazione, quello che deve portare per questo 2023 le minime a 571 oppure 600 euro per gli over 75. E poi ragazzi, chi abbia già ricevuto la perequazione a gennaio 2023, quindi tutti coloro, tra virgolette, quasi tutti coloro che abbiano trattamenti inferiori ai 2.100 euro, beh ovviamente voi non troverete né nuovi aumenti né tanto meno arretrati proprio perché avete avuto il 7,3% già da gennaio. Se avete dubbi su come verificare di aver ricevuto o meno la percentuale di rivalutazione corretta che sia a gennaio o che sia adesso a marzo, scrivetemi nei commenti che vi do volentieri una mano. Video flash, verificate per bene, attivate la campanella così vi avviso anche quando appena non usciranno i cedolini. Noi ci vediamo alla prossima, spero che la rassegna sia stata utile, interessante, se è così un bel like, un abbraccio, un saluto da Mr. Lull.